ciao ragazze cosa vengo a proporvi oggi una stola come vedete molto ampia e il punto ramo io per farla ho usato 500 grammi di cotone ho usato il numero 3 iniziamo il video allora ciao ragazze per fare questa stola io ho utilizzato un filato numero 3 da 150 grammi per fare questa stola come vi ho detto prima ne ho usato il 500 grammi per lavorare io lavorerò con uno già iniziato ho lavorato con un ginetto come vedete numero 3 il punto è un multiplo di 16 più 3 quindi per voi fare le vostre creazione che siano a tendo la copertina quello che più vi aggrada a creare dobbiamo fare 16 quindi un multiplo di 16 in questo momento per farvi vedere non ripeto 112 quanto io ho fatto la stola praticamente vi faccio vedere iniziando con facile con fare 32 catenelle più 3 quindi per aiutare anche voi prendo scusate ma non è non mi ero preparata colpa mia prendo un marcapunti così vi faccio capire meglio quindi noi andiamo ad iniziare un multiplo di 16 quindi nel mio caso ne farò 32 se volete rifare la storia sono 112 io inizio così quindi questo metto il filo sopra lugginetto come se dovessi lavorare filo sull'uginetto ma non è il primo punto è solo diciamo l'inizio il secondo vale come punto quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici 12 13 14 15 16 17 18 19 scusate 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 e 32 per far ben capire io metto alla 32esima anche voi stessi per aiutarvi alla 32esima metto un marca punti dopodiché faccio le 3 catenelle che vi dicevo che dovete fare più due quindi in totale avrò 5 catenelle ora contiamo da dove c'è il marco da dove c'è il marca punti 123 nella quarta entriamo e facciamo una maglia alta poi rifacciamo un aumento quindi nello stesso foro vedete vi facciamo un'altra maglia alta dopo di che fosse no scusate l'aumento alla fine allora praticamente nello stesso foro giusto nello stesso foro mi stavo confondendo allora facciamo l'aumento dopodiché facciamo nell'altra nella prossima catenella una maglia alta nella prossima catenella una maglia alta col totale di 3 quindi adesso ci tocca fare l'ultima nella prossima catenella ecco e abbiamo fatto praticamente abbiamo fatto un totale di 5 maglie alte ora facciamo praticamente 3 catenelle 1 2 e 3 e contiamo 1 2 3 nella quarta facciamo praticamente non facciamo l'aumento lavoriamo normalmente quindi 1 2 3 e nell'ultima nel facciamo un aumento lavorando 2 maglie alte nello stesso foro facciamo 3 catenelle 1 2 3 e contiamo stavolta state attente perché qui abbiamo contato 3 catenelle nella quarta in questa volta dobbiamo contare 1 2 3 4 5 e nella sesta facciamo l'aumento con le maglie alte quindi 1 e 2 e 2 e in ogni catenella le 3 maglie alte quindi in totale avrete 5 maglie alte con l'aumento ok adesso praticamente facciamo altre 3 maglie alte saltiamo 3 maglie alte quindi 1 2 3 e nella quarta facciamo un aumento un aumento un aumento quindi facciamo l'aumento e poi faremo le nostre 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 nell'ultima maglia facciamo 3 catenelle nell'ultima maglia che ci si prospetta facciamo una maglia alta ecco qua adesso facciamo praticamente cosa ci accingiamo a fare il secondo giro facciamo 1 2 e 3 e in cima praticamente qui in questo facciamo 1 2 e 3 e in cima praticamente qui in questo facciamo le maglie alte praticamente quindi 1 2 e 3 e nell'ultima facciamo la diminuzione allora entriamo la diminuzione si fa così allora mettete il filo sul ginetto vi è prestata per la maglia alta quindi entrate uscite e non terminate rimettete il filo sul ginetto entrate nella prossima maglia usciamo quindi avremo tre praticamente fili sul ginetto e li chiudiamo insieme questo è come fare una maglia con praticamente con le due diminuzione ora praticamente faremo 5 catenelle quindi 1 2 3 4 e 5 andiamo nella prossima iniziamo con una diminuzione quindi filo sul ginetto non lo terminiamo filo sul ginetto entriamo nel prossimo quando avremo tre fili li uniamo insieme e lavoriamo le altre maglie per come ci si presentano 1 2 e 3 ora facciamo praticamente perché come vedete si andrà a piegare il lavoro da un lato e dall'altro perché abbiamo fatto le diminuzioni fateci caso all'inizio e alla fine quindi la foglia tenderà ad andare da quella parte infatti noi adesso facciamo non 3 catenelle ma due andiamo nel prossimo e lo lavoriamo come ci si presenta la maglia quindi la prima la seconda la terza poi facciamo le diminuzioni quindi filo sul ginetto entriamo filo sul ginetto usciamo lavoriamo una volta ci troviamo tre fili li chiudiamo quindi la foglia sta tendendo a chiudersi come vedete in questo punto ora lavoriamo la prossima qui significa che noi dovremmo fare altre 5 catenelle quindi 2 3 4 e 5 quindi fate attenzione a questo mio passaggio perché il lavoro può sembrare difficile ma è molto semplice e si ripete ad ogni 5 sempre la stessa cosa quindi qui abbiamo fatto 5 catenelle qui ne abbiamo fatte due quindi la parte dove si restringe si va coricando da questa parte diciamo per farci capire per intenderci dopo aver fatto qui la diminuzione facciamo le 5 catenelle e in questo foro iniziamo in questa maglia iniziamo con un'altra diminuzione quindi lavoriamo fino a metà filo sul ginetto entriamo nel prossimo e lavoriamo fino a metà e chiudiamo insieme dopodiché lavoriamo le maglie che ci si presentano sotto normalmente lavoriamo tranquillamente fino alla fine un punto catenella 1 2 nel terzo nella terza catenella facciamo una maglia alta allora adesso facciamo 3 catenelle siamo al terzo giro 1 2 e 3 lavoriamo la maglia come ci si presenta la prima maglia lavorando normalmente la seconda maglia normalmente arrivata alla terza quarta perché come vedete la quarta è stata una diminuzione rifacciamo una diminuzione nelle ultime due quindi filo sul ginetto entriamo tipo per fare una maglia ma non la terminiamo filo sul ginetto entriamo nel prossimo lavoriamo e quando abbiamo tre fili li uniamo a questo punto noi avevamo fatto come vedete qui 2 catenelle qui 5 significa che dobbiamo fare 1 2 e 3 catenelle entrare nel centro quindi nella terza catenella e fare un aumento quindi 2 maglie alte nello stesso foro ecco qua dopo di che facciamo 1 2 e 3 entriamo nel nostro lavoro che abbiamo fatto prima che vi ricordate era una diminuzione entriamo quindi qui dobbiamo fare un'altra diminuzione quindi lavoriamo fino a metà entriamo nel prossimo e lavoriamo fino a metà e uniamo i due fili dopodiché lavoriamo le due maglie alte come ci si presentano davanti a questo punto sotto avevamo due catenelle ne facciamo facciamo una catenella di separazione filo sul ginetto e lavoriamo le maglie come ci si presentano sotto quindi la prima la seconda queste due si farà una diminuzione quindi entriamo filo sul ginetto usciamo lavoriamo i primi due punti gli altri due non li lavoriamo filo sull'uginetto rientriamo nel prossimo usciamo lavoriamo quando abbiamo tre fili sull'uginetto li chiudiamo ora una volta che qui vedete che abbiamo le cinque ricordatevi che dovete fare una due tre catenelle entriamo nel centro quindi nella terza catenella e facciamo un aumento di due l'aumento è sempre ripeto lavorare due maglie alte nello stesso foro poi 1 2 e 3 saltiamo nel prossimo e facciamo praticamente una diminuzione quindi lasciamo a metà entriamo nel prossimo e facciamo un'altra diminuzione cioè praticamente la stessa diminuzione soltanto vi volevo dire una maglia non terminata un'altra maglia non terminata dopo di che le chiudiamo poi lavoriamo le altre due normalmente un punto catenella e ci agganciamo nella seconda catenella e facciamo una maglia alta questo è il lavoro come vi si deve presentare poi facciamo 1 2 3 maglie alte e lavoriamo praticamente le maglie alte cioè queste sono altre catenelle le tre maglie alte le due neanche perché adesso dobbiamo fare la diminuzione quindi queste due dobbiamo fare le diminuzioni quindi entriamo e diminuiamo significa che lavoriamo senza terminare due punti filo sul ginetto rientriamo senza terminare ora possiamo terminare una volta che abbiamo tre fili facciamo 1 2 3 punti catenella vedete che viene il centro che abbiamo fatto l'aumento mettiamo filo sul ginetto in questa maglia alta faremo 3 maglie alte nello stesso foro quindi questo stesso foro faremo la prima maglia alta la seconda maglia alta la terza maglia alta punto catenella di separazione rientriamo nella seconda maglia alta e lavoriamo altre 3 quindi 1 2 e 3 questi passaggi 1 2 3 e 4 vi verranno sempre saranno sempre ripetute nel lavoro adesso queste sono la quarta vi faccio vedere come il lavoro tende a ripetersi fate 1 2 3 punti catenella dopo aver fatto questi aumenti e lavoriamo la diminuzione anche perché ve lo chiamo il lavoro stesso che avete fatto la diminuzione e viene sempre fatto nello stesso lato quindi fate la prima diminuzione la seconda quindi non terminate e poi terminate insieme l'altra maglia alta questa volta non dovete fare punti catenella ma lavorare saltando questa catenella che avevamo fatto la saltiamo e lavoriamo direttamente la maglia alta che ci si presenta sotto quindi una e qua facciamo la diminuzione quindi lavoriamo senza terminare rientriamo lavoriamo e terminiamo insieme qui dobbiamo fare le 3 catenelle perché vedete 3 catenelle che ci aspettavano sotto 1 2 e 3 filo sul ginetto andiamo in questa maglia alta e ci lavoriamo nello stesso foro 3 maglie alte 1 1 2 3 punto di catenella di separazione rientriamo nel prossimo e facciamo 1 2 e 3 nello stesso foro dopo di che facciamo 1 2 3 punti catenella andiamo nel prossimo dove vedete inizierà subito la diminuzione quindi vuol dire che dobbiamo fare la diminuzione quindi lavoriamo ma non terminiamo entriamo nella prossima entriamo finiamo e chiudiamo lavoriamo la maglia che ci si presenta sotto normalmente e senza fare punti catenella entriamo nella prossima catenella e facciamo che non c'entra niente col disegno però si chiude così poi facciamo 1 2 e 3 catenelle vedete come si comincia a prospettare qui si comincia a chiudere qui si comincia ad aprire 3 punti catenella entriamo nel primo seguitemi perché qui dobbiamo fare due diminuzioni due punti abbiamo due diminuzioni dobbiamo fare quindi entriamo facciamo la maglia alta ma non la terminiamo entriamo nella prossima e terminiamo il tutto poi facciamo 1 2 3 catenelle vedete in corrispondenza di questo lavoro filo sull'uginetto entriamo nel prima nella prima maglia alta e facciamo un aumento di due quindi della prima e la seconda le altre due le lavoriamo perché vedete che c'è la separazione le lavoriamo normalmente quindi una dentro ogni maglia alta quindi l'aumento ripeto è solo nella prima maglia alta alla fine vi dovrete trovare 4 maglie alte poi facciamo una separazione di 2 catenelle a questo punto entriamo nel prossimo e lavoriamo per come si presenta il prossimo e lavoriamo la prossima maglia alta e la lavoriamo come si presenta l'ultimo facciamo un aumento di due quindi 1 e 2 facciamo 1 2 3 catenelle adesso state attente vedete dove che abbiamo fatto la diminuzione ci sono rimaste diciamo perché questo non si conta perché la diminuzione quindi non contate il sotto delle maglie sono due e due entriamo nella prima di nella diminuzione e non terminiamo attenzione entriamo nella la seconda e non terminiamo filo sull'uginetto entriamo nella terza e non terminiamo filo sull'uginetto entriamo nella quarta e a questo punto chiudiamo il tutto vedete la foglia a questo punto si è chiusa poi lavoriamo 1 2 3 catenelle come abbiamo fatto qui entriamo nella prima e facciamo un aumento di due c'è un aumento un semplice aumento facciamo un aumento lavoriamo le altre due perché le atte sono separate dalla catenella le maglie per come si presentano quindi avremmo da un lato 4 maglie alte dall'altro lato 4 maglie alte ecco qua poi facciamo un due punti catenella entriamo nella prima e la lavoriamo per come si presenta nella seconda entriamo e la lavoriamo per come si presenta l'ultima facciamo l'aumento quindi lavorare due maglie alte nello stesso foro ecco qua dopodiché facciamo una due tre catenelle andiamo alla fine dove faremo l'ultima diminuzione quindi lavorare senza completare filo sul genetto entriamo lavoriamo senza completare alla fine chiudete fate un punto catenella ed entrate nella catenella facciamo la maglia alta questo è come vi si presenta il lavoro a questo punto giriamo il lavoro non facciamo semplicemente le 3 catenelle perché noi dobbiamo fare 3 come maglia alta più 2 di separazione in totale 5 1 2 3 4 e 5 filo sul genetto quindi saltiamo questo lavoretto che abbiamo fatto qui l'unione praticamente dove che abbiamo fatto la diminuzione viene saltata e saltiamo in questo dove lavoreremo un aumento quindi primo aumento nello stesso foro lavoriamo la seconda maglia alta questo è l'aumento poi lavoriamo sotto le maglie come ci si presentano e come vedete ci troviamo allo stesso punto di qui di quando abbiamo iniziato quindi 1 2 3 4 e 5 abbiamo qui 1 2 3 4 e 5 avremo qui ora dobbiamo fare le 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo qui e lavoriamo per come si presenta voi vi aiutate perché gli aumenti vanno fatti alla fine praticamente dell'apertura del fiore quindi apriamo lavoriamo tranquillamente le tre maglie alte nella quarta facciamo l'aumento quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso petalo chiamiamolo così ora facciamo 1 2 3 catenelle vedete dove abbiamo unito il fiore abbiamo unito la foglia dobbiamo saltare fino a questo punto e facciamo l'aumento quindi 1 e 2 nello stesso foro poi lavoriamo 1 2 e 3 facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo da quest'altra parte e facciamo le nostre maglie alte tranne l'ultima perché vedete voi saprete che vi dovete fermare quando ne avrete 5 1 2 3 4 e 5 come vedete io vi sto ripetendo la parte che già abbiamo fatto né più né meno allora l'ultima lavoriamo come aumento quindi 1 e 2 facciamo le 3 catenelle quindi 1 2 3 e saltiamo questo questo punto andiamo direttamente a formare la maglia alta finale in questa maniera ora non dovete fare altro che ripetere la parte numero 1 2 3 la terza parte si va a ripetere io ve la faccio rivedere vi lascio a questo punto perché dopo di che vi basta seguire il tutorial quindi facciamo 1 2 3 più una quindi 4 saltiamo in questa maglia alta e la lavoriamo per praticamente questa facciamo 1 praticamente abbiamo fatto le 5 sotto qui facciamo la diminuzione quindi non terminiamo entriamo nella prossima e chiudiamo insieme e lavoriamo le altre maglie sottostanti per come si presentano così anzi scusate l'aumento perché mi sono un pochino impacciata l'aumento e alla fine che lo dobbiamo fare quindi lavoriamo perché se ci fate caso non vi potete sbagliare le diminuzioni vanno fatto dove noi facciamo ricostituiamo il petalo scusatemi questo errore però ci vedo pochino perché devo cambiare gli occhiali anche per quello diciamo un pochino mi impaccio allora facciamo gli ultimi due con una diminuzione ecco qua e diminuiamo poi facciamo 1 2 3 catenelle andiamo nella terza catenella e facciamo l'aumento di 2 praticamente stiamo rifacendo il petalo la roba diciamo la foglia il ramo visto che si chiama punto ramo 123 andiamo nel prossimo e facciamo la stessa diminuzione quindi non terminiamo entriamo e chiudiamo insieme lavoriamo restanti maglie alte che ci troviamo solto normalmente ecco qua questo punto invece faremo che vedete avete la punta della foglia praticamente facciamo 1 e 2 dopo di che sarà 1 dopo di che sarà 0 se vi ricordate entriamo e lavoriamo per come si presenta la maglia solo al termine facciamo una diminuzione ecco qua entriamo e lasciamo a metà che lo sfugge netto entriamo e lasciamo a metà chiudiamo tutti quanti facciamo 1 2 3 catenelle entriamo nel centro e facciamo l'aumento di 2 ecco qua poi 1 2 e 3 qui facciamo la stessa cosa di qui quindi diminuzione e di nuovo diminuzione ecco qua abbiamo chiuso insieme i prossimi lavoriamo per come si presentano sotto quindi uno 2 e 3 facciamo un punto catenella e chiudiamo nella terza catenella quindi 12 nella terza allora ragazze io vi ho portato a praticamente questo punto qui vedete è uguale quindi non dovete fare altro che ripetere dal terzo giro in poi perché il lavoro è bello si presenta bene e in più si prospetta a fare tantissime cose potete realizzare moltissime cose da me due le parti vedete è uguale spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella e rimanete informati sui miei prossimo video ciao